Come posso ottenere gratuitamente i Bitcoin Gold se posseggo i Bitcoin? Quale wallet potrò usare nel caso in cui tengo e terrò i miei Bitcoin su un wallet o su un exchange? Ragazzi queste sono le domande che più mi avete fatto nelle ultime settimane da quando abbiamo cominciato a parlare di Bitcoin Gold e finalmente, finalmente si sono degnati i ragazzi, il team di Bitcoin Gold di aggiornare almeno il sito internet e fornirci le prime informazioni ufficiali, i primi announcement ufficiali. Non c'è ancora tantissimo sul sito web ma è già un enorme passo e meno male ragazzi perché ci troviamo a quanto? Il 25 manca praticamente una settimana perché il 25 sarà giovedì prossimo, quindi manca una settimana al fork di Bitcoin e Bitcoin Gold ovviamente e arrivano le prime piccolissime informazioni, quindi andiamo a vedere che cosa è successo sul sito, quali sono stati gli aggiornamenti e soprattutto quali sono le notizie che più ci servono e che più ci possono tranquillizzare perché è questo come investitori che cerchiamo ragazzi, di essere tranquilli, di poter dormire sonni tranquilli e soprattutto di essere sereni nei confronti dei nostri investimenti, dei nostri risparmi, del nostro capitale. Andiamo a vedere un po' il sito internet di Bitcoin Gold insieme ragazzi e che cosa ha pubblicato il team di developer. A tra pochissimo, ciao! Ed eccolo qua il sito di Bitcoin Gold aggiornato, questa era la schermata che in realtà già c'era precedentemente che già avevamo visto e rivisto e queste invece sono le prime informazioni, questo è un po' il core, le motivazioni che hanno portato alla creazione, al fork di Bitcoin Gold. Vi ripeto ragazzi, quando dico fork, per fork intendo immaginate che questo è il repository, quindi è il contenitore del codice sorgente di Bitcoin che nel tempo va avanti, viene modificato, vengono aggiunte nuove funzionalità, risolte i bug, issue e a un certo punto fare un fork vuol dire partire da questa versione di Bitcoin e creare una versione parallela che avrà nuove funzionalità, quindi avrà un nuovo suo codice sorgente ma che prende e eredita le funzionalità base da Bitcoin. Quindi questo per noi è il nostro Bitcoin che continuerà, continuerà ad avere aggiornamenti, continuerà ad avere rilasci, ma nel frattempo parallelamente ci sarà Bitcoin Gold. Un fork già c'era stato e c'era stato con Bitcoin Cash, giusto? Quindi con Bitcoin Cash avevamo già avuto il primo fork, quindi avevamo già una strada parallela. Adesso ce n'è un'altra. Come vi ho detto già in passato in altri video, mi aspetto di vederne sempre di più, purtroppo o per fortuna, questo solo il tempo ce lo dirà. A me non piace troppo l'idea di questi fork, soprattutto quando questi fork poi conservano ovviamente il nome, quindi Bitcoin Gold in questo caso, che ne so, il prossimo si chiamerà Bitcoin X, il prossimo si chiamerà ancora Bitcoin Extreme, eccetera, eccetera. Non lo so, sto inventando nomi, ma per dirvi, non mi piace questo approccio perché secondo me crea confusione. In un mercato dove già c'è grande confusione perché le persone ci si avvicinano e non sempre lo conoscono così bene. Vabbè, comunque vi ho spiegato un attimo che cosa voleva dire Fork. Primo motivo per cui nasce Bitcoin Gold è per la Proof of Work Algorithm, ci sarà infatti un cambio di algoritmo. Bitcoin utilizza lo SHA-256 e invece Bitcoin Gold utilizzerà l'equihash che permetterà al mining di essere nuovamente decentralizzato. Perché dicono nuovamente decentralizzato? E voi vi potreste chiedere, ma perché adesso Marco è centralizzato il mining di Bitcoin? E il fatto è che adesso Bitcoin utilizza come algoritmo ASICS e ASICS è un algoritmo che richiede super computer super attrezzati con hardware potentissimo. Quindi per poter minare Bitcoin oggi bisogna fare investimenti enormi in termini di hardware. E quindi con questo cambio della Proof of Work sarà di nuovo possibile, dicono loro almeno, lo vedremo questo, minare anche per noi comuni mortali Bitcoin Gold utilizzando le GPU, cioè l'accelerazione grafica. Il GPU sta per Graphic Processor Unit, quindi unità di processamento grafico. E staremo a vedere, questo è molto interessante. E poi altre cose, la Fair Distribution, il metodo per creare e distribuire nuovi digital asset. La Replay Protection, che inizialmente era uno dei punti, degli argomenti che era stato usato per dire che Bitcoin Gold non era sicuro. E cioè la possibilità di proteggere i propri Bitcoin, quindi la sicurezza dell'ecosistema Bitcoin, implementando quello che si chiama la Full Replay Protection, una feature essenziale che protegge le monete, le valute degli utenti dall'essere spese in maniera accidentale. La paura era quella di non ritrovarsi più Bitcoin nel momento in cui si richiedevano Bitcoin Gold. E poi la trasparenza. Bitcoin Gold è un open source free software, quindi è un software completamente gratuito, il cui codice è basato su open source, quindi può essere accessibile e visibile da tutti, portato avanti da sviluppatori, volontari, eccetera, eccetera. Quindi queste sono le prime informazioni che abbiamo. Poi abbiamo una bella tabella comparativa, quindi vedete che ci sono qui le varie funzionalità comparate tra Bitcoin, Bitcoin Gold, Bitcoin Cash e il prossimo fork, ragazzi, perché ce n'è già uno in previsione che sarà SegWit2X, B2X si chiamerà. E quello interessante, appunto, le novità da vedere sono soprattutto qua, sull'algoritmo della Proof of Work, che si chiamerà adesso Equihash, non userà più SHA256, per l'hash function. Andatevi a vedere il mio video sull'hash function. Poi il mining hardware utilizzato non sarà più l'ASIC, ma sarà la GPU, quello di cui parlavamo poco fa, e così via. I block interval rimarranno a 10 minuti, come sulle altre criptovalute, la block size sarà di 1 mega, la difficulty adjustment sarà per ogni blocco e non come avviene per Bitcoin ogni due settimane. E poi ci sarà il supporto a SegWit, la replay protection e il unique address format. Insomma, sembra avere le carte in tavola, almeno per quello che finalmente si sono degnati di dirci gli sviluppatori. Ci dicono che mancano 7 giorni, ragazzi, meno 7 giorni una settimana al fork, siamo tutti in trepidissima attesa. Infine, il sito si conclude con una sezione non troppo ricca, ma sicuramente interessante da leggere. Perché Bitcoin Gold? Queste sono le FAQ, le Frequently Asked Question. Perché Bitcoin Gold? E quindi parla del motivo per cui hanno voluto fare questo fork del 25 ottobre, e potrei andarvelo a leggere con tutta tranquillità. Secondo me due sezioni importanti, anche se molto streaming site, sono come posso ottenere i miei Bitcoin Gold, ci sarà una Initial Coin Distribution, che sarà esattamente quella utilizzata da Bitcoin Cash, quindi tutti quelli che avranno Bitcoin, chiavi private di Bitcoin, entro ottobre 25, in realtà entro il blocco 491.407, riceveranno Bitcoin Gold, con l'equivalenza un Bitcoin, un Bitcoin Gold. Quindi vuol dire che se avete 20 Bitcoin, riceverete 20 Bitcoin Gold. Perfetto. Altra domanda interessante, me l'avete fatta tantissime volte sui commenti, che wallet dovrò, in che quali wallet dovrò mantenere i miei Bitcoin per essere sicuro di ricevere i Bitcoin Gold? E la risposta a loro è molto semplice, non fanno nomi e cognomi, dicono che qualsiasi wallet sicuro di Bitcoin, che dà all'utente il controllo esclusivo della chiave privata criptografata, sarà una location suitable, quindi diciamo, cavolo non mi viene too sweet, comoda, per contenere le vostre monete durante il fork del 25 ottobre. Qualche wallet potrebbe offrire direttamente accesso ai Bitcoin Gold, altri potrebbero richiedere che vengano presi, eseguiti additional step, quindi passi, ci sarà un processo per farlo. Questo processo verrà spiegato attraverso guide pubbliche, che troveremo direttamente sul sito di Bitcoin Gold. Vedete che creeranno, già lo dicono, creeremo per i most popular wallets, creeremo queste publish guides per Bitcoin Core, per Electrum, per MySellium, per gli hardware wallets, per i paper wallets e così via. Quindi, ragazzi, finalmente un po' di informazioni, le avremo gradite prima. Ah, ultima cosa, il team. Questo è il team di Bitcoin Gold. Molti dicevano che dietro a Bitcoin Gold c'era esclusivamente uno sviluppatore. Sicuramente questo è il team leader, il lead developer di Bitcoin Gold. Il suo nickname è H4X3Rotab. Però ci sono anche altri, vedete, c'è uno strategist, c'è un organizer, c'è il founder, che è Jack Liao, che è cinese, che è lui stato il promotore di questo fork. E poi ci sono, qui abbiamo dei designer, abbiamo un core developer, due core developer, un americano e uno, un ragazzo dalla Bulgaria. Quindi, insomma, c'è più di una persona dietro a questo fork. Staremo a vedere anche se in realtà i programmatori sono uno, questo è uno strategist, e due e tre. Ci sono tre programmatori. Non è poco, ma nemmeno è tantissimo. Ragazzi, che altro dire? Possiamo solo aspettare. Sarà una settimana drasticamente interessante. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Ditemi che cosa ne pensate anche voi di questo update che ha fatto il team di Bitcoin Gold. Ci vediamo prestissimo. Mi raccomando, informatevi, studiate, leggete, perché non c'è cosa più importante che dovete fare come trader in criptovalute, se non quella di preservare, mettere in sicurezza e limitare qualsiasi tipo di rischio sui vostri capitali, sul capitale investito. Ciao a tutti ragazzi, buon trading. Ciao.